Buongiorno a tutti, sono Alan G2 e questo è Back Ops 2 Riprendiamo questo secondo episodio, multiplayer, la mappa e non giacca, di una cosa del genere E io non ci sono Ah eh sì, in collaborazione con ovviamente Con ovviamente Ben Gauche E mi chiamo ovviamente No, con una volta e con ovviamente tu devi vedere il tuo numero E vabbè, io dico quello che voglio Casino Cacchio è che mi elettrizzo Sto nerd, verde, certo me Scherzo Forza, forza, forza Forza ci denunzia Ci denunzia Per aver dato il suo nome su YouTube No vabbè dai Ah niente, stiamo Ah io ho ancora niente perché sto sotto qua Sotto qua Nessuno... ma perché ho la sensibilità a uno? Cioè non lo so Guardalo Guardalo Guardate sopra Ovviamente per lui spara nel muro Nessuno muore qua Questa è una nuova modalità Entra nella tua postazione Ma dietro Non lo conosci Sai che aumenta sensibilità perché c'è media Sto parlando questa è una nuova modalità Guardate la mia mitraglietta a 65 colpi E' una mitragliettrice leggera ma... Da non muore sto checco Sto muore che ci denuncia per... Perchè non muoiono? Ovviamente il mio canale è in descrizione Iscrivetevi Non faccio video Ma che è nerd lui quindi Spiega cosa faccio io Ah si fai... Che fai? Ah il background cioè BG Le intro Le intro un po' di tutto fa Sono grafico Sono grafico Una specie di grafico principiante Ma tra un po' sicuramente diventerà bravo Sono già bravo Ehi Fare il Maginotto No ho sbagliato Il Mangusta ora Mangusta c'è denuncia anche lui Chi ha creato l'elicottero da guerra Italiano Da dietro è infame Ho preso tutte le ricompense Quanto? Eh? Ma che è sta roba qua? Che cosa deve riservare? Ok Ok No tra dieci minuti Dopo una piccola interruzione eccoci ritornati su... Niente Non ho metto la mia malattia perché io c'è una cosa di Alem Non lo so se l'avete notato eh Ok Eh no Guardate sopra la nuova ricompensa è entrata super pop store Ma che sta cosa qua che si vede non capisco C'è una cagginata qua che spara onde radio, onde elettromagnetiche non lo so Ah è il fritto, il fritturoro là Ti frigge ho fatto tutto Trastrocheggiando la mappa di Demgosh Trastrocheggiando Oh my god Campero Wow Ricarico Dai dietro ma che si fa? Ma dentro di Messi i nerd E' un ottimo sniper Quindi se fate parte di qualche clan Abbastanza molto discreto Fate combattimento corpo a corpo ma muoio io perché Ho un lancerazio addosso e non riesco a killare nessuno Perché Rami Mi l'aveva un po' a strocheggio potete vedere Ma ma si ripresa subito Oh tutti qua stanno Dopo la kill Prima volta Se c'è qualcuno che è un clan sniper abbastanza forte Mi contatti su ZFK No la Klemor l'avevo vista ma penso Oh da cane Su ZFK perché ZFK Voglio entrare in qualche clan Di cecchini ma giocare in due è molto difficile Faccio 19.9 con cecchini Dai l'ho rilanciata ma che cacchio Guarda ora come li ha ammazzato tutti le cose La stazione è localizzata Localizzata Questo che si chiama Ops è loki Chi non mi piace Stava proprio schifosa Sì è la più brutta Guardate la mappa Strogheggia 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 Gua non muore questo spara vuote non muore mai Strogheggia Ops è loki Pure a me mi ha ucciso Io non sto che già ecco muore Ma la giocavità è sapesso Su questa mappa giove la giocavità è simile a quella di Nuketown Anzi Nuketown 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 Sistemato Ma dove c'è uno spano dappertutto Bravo Molto visto che il richilato G.S.R Va da dietro si nerd Si secchioni Cosa cacchio Ma che è solo il muore Strogheggia Alla 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 E' tipo bombardire Che passa 75 volte sulla Senza colpi Sembra che sta speppitando da un'ora Cioè vabbè Rumori assurdi Così tipo Madonna Le mie strunzanti tarocchie Che cacchio è Ma sto spepitando Veramente Sto Si Si chiama spepito Ricompensa Spepitante For skill La prima della partita No no Cioè forse No se lo fa di seguito C'è la vector For skill Ma vuoi che muoio per un infame Che viene da dietro Scommettiamo Second kill Troviamo le azioni magiche Di 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 Tordente lanciata Tordente lanciata Eh Uccisione confermata s alluvione io sono ancora molto ragazzi strano ma vero 13 16 io 25 30 25 30 scolastico la mia mappa sdrogheggia la mia c'è tanto non ci sono fissi la partita non c'è tanto ah si si è complicato va bene for che di seguito fu 4 uav no c'è quinta quinta da assicchioni con quello avruzzo adesso riprendo a fare le chi ti sei ma la facciano la stima ha sblocato minore fx alla mia piaccia bombo 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 no quanto è da bobo a secco chi lato no non ci dico di noio ma qualità di me è pino cacchio dentro qua 3 di seguito e poi sono morto peccato è una bella azione quella 2 kg di seguito wow wow come sei forte no no vabbè questa è la prima volta che gioca questo gioco quindi seconda seconda ma che se si vuole non si capiva niente drs dsr il mio dai faccio la kick muori cacchio i coltelli continuano ad essere bugati a quanto pare si della kick non so se c'è non ho coltello in pratica coltelli ma non ho coltello nei coltelli è un gioco di parole oh oh per poco 31 19 per me 21 20 positivo il grande alan 21 20 wow guardate come si vede ratio 0,1 0,10 niente anche 1 è vero 1, qualcosa ora andiamo in privata c'è un po' di trick prima prima partita ratio 1,1 spero vi sia piaciuto questo video vi salutiamo mettete mi piace commentate iscrivetevi alla pagina facebook che Alessandro non ha ovvio questo sono io il creeper famigerato creeper dove esplode perchè si innamora di voi vabbè non so se veda sta cosa però no c'è mettato sto coso verde sto spinaccio crudo vivente quindi ci accontentiamo vi saluto ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ciao